C'è di diverso lavoro serio, silenzioso e costruttivo di chi ha portato a casa questi finanziamenti oltre 300 milioni di euro che marcivano, come ha ricordato, da 25 anni nelle casse dello Stato e che l'Abruzzo non era mai riuscito a trasformare in servizi, in ospedali, in nuove strutture. Oggi abbiamo questa approvazione in conferenza Stato-Regioni, l'accordo di programma pronto da firmare, 300 milioni in arrivo sul bilancio della Regione, 3 nuovi ospedali più la centrale del 118 dell'Aquila e altri 100 che attendono di essere destinati con un successivo prossimo accordo che seguirà immediatamente ma rispetto al quale l'Abruzzo oggi ha dimostrato allo Stato e al Governo di essere in grado di fare questo. E c'è anche un nuovo Governo che ha ascoltato e seguito con l'attenzione che merita i problemi e le richieste e i bisogni della Regione Abruzzo. Un importante traguardo che questa Giunta ha raggiunto, proprio ieri la conferenza Stato-Regioni ha dato l'intesa per i nuovi accordi di programma che vede la possibilità di realizzare nella nostra Regione tre grandi ospedali, ossia Avezzano-Lanciano-Vasto più l'unità del 118 presso l'Als dell'Aquila. È importante sottolineare perché è un traguardo che si aspettava da diverso tempo, ossia la prima delibera risale a quasi 25 anni fa ma soprattutto andremo a riorganizzare e strutturare questi nuovi ospedali con fondi che ci vengono date dal CIP e dal Ministero con un'aggiunta da parte della Regione dove sono stati già impegnati questi fondi per la riorganizzazione e la ristrutturazione.